Un punto di riferimento per allargare gli orizzonti, un'associazione culturale che ha come obiettivo di combattere tutte le forme di discriminazione attraverso la conoscenza. E questo le rose di Gertrude di Magenta, associazione di riferimento nell'alto milanese nel panorama LGBT e presente attiva nel coordinamento arcobaleno di Milano e provincia. L'associazione è un'associazione che parte sì per promuovere cultura, per combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Siamo accorti appunto che i diritti non sono un bene per sempre acquisiti ma si rischia ancora di perdere alcune cose che sono così importanti. Nel 2001 nasce la rete Redi a Torino, nasce con uno sportello dove i cittadini e le cittadine gay, lesbiche e trans possono arrivare in comune e portare le loro istanze. E quindi con questo progetto che è partito da Torino si è esteso in tutta Italia. Corbetta e altre città e paesi della nostra zona hanno aderito e quindi hanno accettato il protocollo e quindi cercano appunto di creare, promuovere, iniziare appunto dei percorsi per far sì che i cittadini e le cittadine del proprio paese e della propria città possono star bene e quindi possono essere aiutati in qualsiasi disagio. Non solo per quanto riguarda l'aiuto a livello di formazione culturale e quindi l'attenzione alle tematiche LGBT ma anche ad esempio in alcuni casi collaborando con la polizia locale per cui purtroppo noi in Italia non abbiamo una legge ancora contro l'omotransfobia e quindi purtroppo chi viene aggredito non ha l'aggravante e quindi tutti i processi vanno a finire sempre in nulla ma con le buone pranze che i comuni possono iniziare con la rete a redi attraverso la polizia locale si può riuscire a risolvere qualche problema.